Io ti trovo umanamente una persona molto carina, te lo volevo dire davanti a tutti. So la tua storia, so anche che hai ripreso a ballare da pochissimo, me lo spiegava Umberto, me lo spiegava Raimondo, me lo spiegavano tutti. Se ti va, se ti va, non sei alzerare Benedetta, ok? Però puoi continuare a vivere con loro, ti faccio un contratto come ballerina. Quindi il lavoro che hai fatto in questa settimana, facendo i passi a due con Mattia, fino a quando Mattia sarà alzerale? Guarda, per noi, per questa produzione Benedetta risolvi un problema. Grazie. Perché con il Covid non potrei far ballare Mattia con nessuno.